via le ronchi dovrebbe essere via le ronchi a altezza civico 12 14 sono diverse segnalazioni adesso è una lita animata fra stranieri bene ci avviciniamo da vendito 2 e poi avviciniamo a delle ronchi se è bisogno rimestino 1 scolto 21 hai seguito la notte di chiare ronchi? ok ma abbiamo sentito ci stiamo avvicinando si è venuto un unico italiani che era testimone a lui e un altro ragazzo senti che può stare con il tuo io l'ho dato io, l'ho dato io da mio amico, devo fare un lavoro uno non l'ha renduto uno non l'ha renduto uno non l'ha renduto ma non l'hai stanno facendo chi ha renduto il tuo? ho un 4 che si è saltato hai portato? si un 4 perché l'ha romenato? sui puni io ho preso il trafono e ho cominciato a dare pure io perché erano un 4 e due sono scappato ma quale motivo hai dettagato? perché non gli ho voluto dare il frullino dammi questo frullino ma che oh ho desiderato uno non l'ora un amico suo si e non tanto era corregato ha sfinto? no quella roba vecchia guarda che c'è la cicatrice c'è la cicatrice quando ti ha sfinto il foto di qua ma ha sfinto lui adesso non? quando sempre così ti prendono dammi la birra se no non passi più qua dammi di qua dammi di là sono 5 o 6 che sparano al campo qua si si perché è la terza volta si è la terza volta ha buttato il trapino si 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 ma lo sai che non è tanto per questo è che questi continuano a fare questa cosa capito? minacciano fanno o a quello o a quell'altro vanno fare il capobando di questa cosa c'è tipo capito come che passa dammi la birra ma che chiedono? chiedono qualcosa in cambio mi ha capito? mi ha detto dando il furlino vuole il furlino per forza il segretario che faceva la vita a me che ha reagito gli hanno venato tutto lui ok una cosa di un po' mafiosa no capito? ti spieghi com'è andata certamente? si stavo stavo a fare lavoro con un ragazzo qua no? eh che stavo aiutando eh stavo montando una cucina un lavelo arriva sto ragazzo bassetto questo qui in macchina? si eh oh ma che dammi un po' quel furlino ha detto non ti vuole dare che boom arriva un cazzotto boom qua io ho spinto oh ma stai scherzando poi arriva quell'altro alto boom un cazzotto qua oh ma che stai rispondi? che fa là? ha cominciato a darmi cazzotti dopo di che altri due sono arrivati non è la prima volta sono arrivati altri due oh ma tu rispondi uno da dietro vado cazzotti qua io mi so cazzato ho preso il trapano ho preso la corda ho cominciato a girare uno gli ho dato una schiena a uno gli ho dato un cazzotto ho buttato per terra sono saliti altri tre erano cinque cinque e mi hanno riempito di cazzotti boom 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 sono riuscito a spini uno due ma non c'ho affa in cinque erano cinque che fai? che fai? ci fai conoscritto un mene un mene che fai conoscritto cazzotti Grazie a tutti.